ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché 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 oggi è martedì il martedì cosa esce esce un nuovo video delle makeups angels quindi un video tra fabiana elisabetta e me la sottoscritta sapete tutti che ogni martedì facciamo uscire un nuovo video che riguarda il nostro gruppo è per questa settimana abbiamo deciso di mettere delle cosucce così dei glitter perché abbiamo deciso dei glitter perché ci piaceva tantissimo questa idea mi stiamo facendo vedere dei prodotti che per noi sono buoni che per noi sono i migliori quindi volevamo anche farvi vedere per quanto riguarda i glitter per prima cosa io vi faccio vedere la palettina questa qui di revolution questa è l'abracadabra aspettate ve lo faccio vedere così il nome perché non è scritto nella palettina ma è scritto nella confezione e il nome è questo questo qui in grassetto ed è abracadabra allora io adoro questa palettina è molto bella allora il packaging è così tutto brillantinato quindi stupendo ha uno specchio enorme veramente enorme e queste sono le cialdine che sono uno più bello dell'altro ma il mio preferito eccolo qua il mio preferito è hocus pocus che sarebbe questo che adesso vi faccio vedere io ho le unghie abbastanza lunghe infatti domani li toglierò e quindi visto che non c'è l'aniestitista questo è il colore e cercherò di metterlo qui nella mano anche se ovviamente non si vedrà niente perché è rimasto tutto qui nel dito ve lo faccio vedere così vedete tutti questi riflessi anzi proviamo a mettere una base allora andiamo a mettere il primer questo qui dei glitter per quanto riguarda NYX e asciughiamo la mano perché se no ce l'ho piena di salviettina e mettiamo la base la mettiamo in tutta la mano così riusciremo ad avere un bel colore allora vi faccio vedere il colore che vi ho fatto vedere poco fa prima che lo scavo direttamente con le unghie e questo è il colore ve lo tampono così si vede meglio vediamo se mi avvicino e vi faccio vedere il colore ecco perfetto questo è il colore è un bellissimo pigmento dove ha un sacco di riflessi ed ha i riflessi con il verde il dorato e dipende che base mettete sotto vedete già si vede anche di qua dipende che base mettete sotto veramente vi fa un effetto fantastico mi piace veramente tanto poi un altro che adoro in assoluto e poi ovviamente vi metterò la chicca alle fenne allora un altro che adoro in assoluto sono questi qua di NYX io ne ho due ma il mio preferito ovviamente è questo qui allora vi faccio vedere i numeri questo è lo 06 e questo è il 12 lo 06 assomiglia a quello di MAC invece lo 012 sono dei glitter tipo argentati ma quello che io adoro di più è questo qui lo 06 che me li sta perdendo in ogni dove allora questo ha più come si dice dovete mettere una base sotto vabbè in tutti i glitter dovete mettere una base però questo qua allora questo è l'altro vedete allora a me piace tantissimo io l'ho provato su una base nera è davvero spiccava una cosa esagerata potete mettere qualsiasi tipo di base perché è ottimo come prodotto si attacca dappertutto io ovviamente gli metto sempre il primer questo qui di NYX che è il suo diciamo ed è questo vedete sono dei glitter proprio tipo luminosi tipo unicorno dove ha tantissime perlescenze ed è bellissimo veramente molto molto bello un altro che vi faccio vedere sono questi qua e sono dei di Sephora allora questi mi piacciono tantissimo ma tra i due perché uno è fucsia e uno è viola quello fucsia è il numero 04 e il viola che è lavender è 03 quello che mi piace di più è lavender in questo bottino abbiamo sia il primer che sinceramente io l'ho utilizzato e non è niente di che infatti è tutto sporco non è niente di che e poi avete queste bellissime glitter viola, lilla, lavanda qui come dice bellissimo veramente veramente molto molto bello a me piace tantissimo cioè già prese con il pennello già prese con il pennello sono una meraviglia e io queste qui le ho messe anche sulle labbra perché ho fatto un make up dove facevo vedere dei glitter sulle labbra e le ho messe e sono queste vedete la luminosità cioè è fantastico proprio ha una luce pazzesca ed è stupendo io l'ho messo sia su no una volta le ho messe sugli occhi facendo una base normalissima con un viola sfumato era tutto viola ma come mi sono piaciuti? sulle labbra sulle labbra erano fantastici ho messo una matita che se non mi sbaglio era di Kiko ho messo la matita di Kiko la tinta labbra è sempre di Kiko e poi ho messo questo di sopra ed è stato se non mi sbaglio per carnevale l'anno scorso o l'anno prima ed erano bellissimi veramente bellissimi tutte chiedermi che cosa avevo sulle labbra perché erano particolarissimi non mi ricordo se c'è un video sinceramente dove le indosso in caso ve lo linkerò giù nell'info box oppure nelle schede allora poi abbiamo questi qua che sono nei pottini piccolini ovali che sono quelli là di e le splash e hanno dei bellissimi nomi uno è Beethoven che è questo poi abbiamo Stardust che è questo e poi abbiamo Platinum Fitz che è questo allora quello che mi piace di più è questo qui che è ah no non è Beethoven è Beethoven che è questo vi faccio vedere solo uno ovviamente non ve li faccio vedere tutti perché sennò qui abbiamo una serata veramente cioè sono una meraviglia sono chiarissimi perché sono veramente bianchi questi sono stupendi no forse è meglio che lo prendo col dito sono veramente stupendi io l'ho indossati mi piace perché ha il pigmento bianco cioè il glitter è con dei riflessi bianchi quindi si nota molto molto di più il bianco ed è bellissimo bellissimo potete mettere qualsiasi base di sotto ha una perlescenza pazzesca e sinceramente l'istra adoro l'istra adoro in qualsiasi make up ha una particolarità pazzesca io ad esempio mi piace indossarli questi glitter proprio sugli occhi facendo anche tipo uno spooky eye e poi mettere questi si attaccano e sono molto più sottili di tutti gli altri che vi ho fatto vedere fino adesso quelli di Sephora ad esempio sono quelli più grossi come quelli di NYX invece questi qui di L & Splash sono sottili ma proprio sottili sottili e quindi si aggrappano meglio quando mettete la base e sono veramente veramente fantastici a me piacciono tantissimo li adoro infatti ne avevo preso altri due quando ne avevo preso uno cioè avevo preso il primo e sono veramente molto molto belli sicuramente farò dei make up quando diciamo mi sentirò molto più agio a fare a ritornare diciamo a fare make up ed è bellissimo stupendo veramente numero uno io molto spesso vedo delle persone che li mettono anche sulle unghie per me è uno spreco perché veramente io non mi ricordo il prezzo però sono fantastici sugli occhi cioè fantastici l'ultimo che vi faccio vedere anzi il penultimo che vi faccio vedere è il mio preferito questo lo cercavo lo ricercavo niente non c'era alcuni dicevano che era sold out altri mi dicevano no signora adesso ritorno di qua e di là è lui e l'ho preso grande cioè io di solito i pigmenti o i glitter che siano di MAC li prendo nei pottini piccolini questo è quello grande proprio è il glitter brillant dei brillantini ed è nella colorazione 3D platinum questo già l'ho indossato una fatica nel toglierlo che non vi dico avevo fatto già gli occhi e ho iniziato a fare la base purtroppo me lo sono ritrovato perché sbattendo gli occhi e tutto le ne avevo messo forse troppo me lo sono ritrovato giù sul viso quindi con lo scotch tamponavo e toglievo diciamo questi glitter però sugli occhi faceva un effetto fantastico io sono andata a una cena se non mi sbaglio per un bimbo che era nato bellissimo mi è piaciuto tantissimo i miei nipoti mi avevano detto insieme dove stai andando perché era molto molto bello questo è il pottino vedete tutti i riflessi tipo unicorno cioè una cosa pazzesca i riflessi che ha questo pigmento è veramente pazzesco questo la cosa ottima che ha che ha il cappuccio però sinceramente averlo così in libero tra virgolette non è che mi piaccia molto allora aspettate che ve lo faccio vedere con il pennello perché qui ne preleva tantissimo guardate qua ed è stupendo questo ovviamente ha sempre dei glitter tutti molti sfaccettati perché ha dei glitter con il blu con il viola con l'azzurro ed è stupendo questo è molto più sottile a confronto degli altri sto cercando di prendere il tappo con le unghie ma domani dovrò togliere queste unghie perché veramente non riesco a fare niente più sono troppo lunghe e non riesco a fare le cose e questo è il pigmento questo è il pigmento di MAC ed è bellissimo assomiglia un pochettino a quello di NYX ma la polverina cioè il glitter è molto 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 ma molto sottile infatti l'applicazione viene molto meglio questa qui di MAC che quella di NYX però devo dire che mi ci sono trovata bene con tutte e due mi piace tantissimo mi piace proprio come rende il make up ed è una cosa fantastica io adoro questo pigmento infatti avevo visto un sacco di make up look delle ragazze americane che io seguo e non vedevo l'ora di acquistarlo proprio per fare questi make up perché veramente impazzisco e li volevo realizzare sinceramente poi ovviamente per questa situazione un pochettino una si non se ne risente però sei un po' abbattuta vedi i tuoi genitori lontani quindi un pochettino si deve riprendere la marcia e quindi vediamo se riesco a fare dei make up un po' più particolari diciamo anche per stare a casa e per raccogliere i panni fuori adesso vi faccio vedere il mio jolly la mia chicca io sono andata quando fu che uscì questo prodotto sono andata direttamente a Catania andarlo a prendere perché non lo volevo prendere online perché avevo paura che arrivasse tutto rotto eccetera eccetera quindi sono andata direttamente là a prendere un gioiello loro dicono che questo è un illuminante ma assolutamente sono dei glitter pressati e io sto parlando di questa fantastica adesso vi faccio vedere è una cosa veramente sensazionale e sono dei glitter pressati fantastici veramente e sono una meraviglia vi faccio lo swatch ovviamente dovete stare sempre attenti guardate qua dovete stare attenti a questo prodotto perché ovviamente è una cosa pazzesca e io ho visto una ragazza cioè lì l'ha commessa che l'aveva indossato guardate qua l'aveva indossato con una base cremosa di sotto un ombretto sfumato così un color carne sfumato e poi questo ed era veramente bello ma bello 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 io lo adoro in assoluto cioè è stupendo non mi potete dire con illuminante perché io illuminante non lo metterei in no non non lo metterei assolutamente vediamo se si vede aspettate che mi avvicino e ve lo faccio vedere proprio da vicino questo illuminante che sono la illuminante sì ciao ciao Stefania ciao vi faccio vedere da vicino questi glitter che sono uno più bello dell'altro cioè guardate qui che luce guardate qui che luce fantastici cioè è un una luce pazzesca come vedete i tre siamac che questo qui di Wicon super giù sono uguali e li adoro cioè guardate che luce cioè hanno una luce pazzesca sono bellissimi ma veramente molto molto belli io li adoro in assoluto il mio jolly posso dire che è forse il mio preferito tra quello mac e il jolly sono lì che si aiutano a vicenda no no sono bellissimi cioè veramente non so che dirvi ma sono veramente molto molto ma molto ma molto ma molto ma molto belli allora per questo per questo video credo di aver finito visto che vi ho riempito di di glitter all'infinito e sinceramente mi sono piaciuti tantissimo e niente ragazzi che dirvi ovviamente dovete andare a vedere cosa vi hanno proposto le altre due angels quindi Fabiana e Elisabetta eravamo molto indecise perché abbiamo un bel po' di pigmenti sia questi qua in polvere libera che quelli pressati in questa maniera e anche quelli nel tubetto nel tipo come a forma di ombretto quindi eravamo un po' indecise su cosa mettere però non vedo l'ora di andare a vedere i loro video per vedere cosa hanno combinato allora ragazzi io per questo video ho finito ringrazio tantissimo Fabiana e Elisabetta per aver fatto il video in collaborazione con me come ogni settimana quindi aspettatevi un altro video per martedì allora per questo video è tutto e per finire vi dico sembra talco ma non è sembra darti l'allegria se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao